Piemonte al centro è un'associazione politica che è formata da esponenti e da persone che arrivano da moltissime parti dello schieramento dell'arco politico italiano, accomunati da due o tre caratteristiche fondamentali, cioè condividere una cultura sostanzialmente liberal democratica, per certi versi liberal socialista e soprattutto riformistica, riformatrice, quindi molto attenta alla necessità che oggi in Italia siano attuate delle riforme profonde che facciano ripartire il nostro Paese, per quanto ci riguarda la nostra regione, riportarlo ai primissimi posti in Europa e nel mondo, riprodurre ricchezza, produrre di nuovo valori, insomma ricostruire e rimettere in piedi questa Italia e condividono poi la necessità dal punto di vista politico di ricostruire il sistema politico italiano prendendo atto del fallimento totale del sistema politico che ha governato la prima repubblica, la cosiddetta, la pseudo prima repubblica, che ci ha consegnato un'Italia peggiore di quella che era stata trovata da quel sistema nel 1993-94. Quindi la necessità di costruire nuove formazioni politiche che superino questo PDL e questo PD che si sono rivelati assolutamente insufficienti, inidonei a governare bene questa d'Italia, hanno prodotto una classe dirigente che io direi peggiore di quella della prima repubblica, perché ne ha conservato e ne ha esacerbato per certi versi i difetti senza conservarne i pregi. Quindi questo è Piemonte al centro, è un'associazione politica che vuole costruire una Italia nuova e un nuovo sistema politico.